ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi è martedì quindi ogni martedì cosa succede succede che esce un nuovo video delle make up angels quindi io fabiana elisabetta abbiamo deciso di proporvi oggi un video molto particolare per quanto riguarda la base quindi la base viso da angel con i nostri top allora sapete tutti che in questo periodo non si sta uscendo però quella volta che vogliamo prepararci per non lo so una qualsiasi cosa anche per un'uscita così infatti ho messo l'uscita labbra così anche se l'uscita labbra non viene messo visto che abbiamo la mascherina questa è la base che io preferisco di più in assoluto l'ho messa qua dentro per farvi vedere proprio quello che io prediligo di più in assoluto allora lasciando perdere la skin care quindi le creme siero eccetera eccetera io inizierei subito nel farvi vedere un prodotto che si l'ho comprato perché l'ho sentito nominare perché ho visto determinate recensioni da Giulia Cove quindi lo volevo proprio provare e in questo periodo lo sto provando e devo dire che mi è piaciuto tantissimo non avevo mai sentito ancora questa consistenza sinceramente sono rimasta sbalordita sto parlando di questo prodotto qua questo è un una base ovviamente prima del fendotinta e ha una sensazione pazzesca sulle mani cioè quando voi la mettete vi scivolano le dita cioè voi la state mettendo e vi parte la mano nel senso che scivola devo dire che è molto molto buona io la metto ovviamente su tutto il viso io non ho imperfezioni da dire oh mio dio metti una copertura pazzesca sul viso no io ho delle discromie date dall'età diciamo avendo 40 anni o qualche parte dove cede di più devo dire che è molto molto buona ovviamente la consiglio a chi ha un'età sui 40 non prima perché non c'è bisogno devo dire che è ottima ottima veramente non so se posso dirvi qualcos'altro a 30 ml di prodotto ma ne serve poco sinceramente perché veramente vi pialla tutto io ho messo anche qui vicino al contorno occhi e devo dire che è ottimo veramente mi è piaciuto veramente molto 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 quindi ve la consiglio assolutamente questa è una base proprio per le persone diciamo oltre i anta l'ante in poi ed è la prima cosa poi come fondotinta io sto mettendo spesso questo perché è più leggero perché vi ripeto non ho discromie da far da nascondere sinceramente quindi è inutile utilizzare quei fondotinta così corposi così pieni io sto utilizzando questo qui che è il face and body della mac ha una copertura ovviamente leggerissima molto molto leggera ma a me piace piace perché mi uniforma il colore e quindi mi sento più sicura col fatto che diciamo il mio incarnato è uniforme però non ho altre diciamo esigenze in questo periodo quindi tranne qualche brufoletto visto che sto mangiando delle schifezze a teca piglietilla come si dice in siciliano lo sto utilizzando il fondotinta che utilizzo più spesso e quindi lo prediligo di più mi piace perché mi fa un effetto bello sulla pelle perché è a base di acqua quindi mi ci trovo bene non mi dà pesantezza quindi non mi sento tipo tutta otturata no mi piace mi piace l'effetto che ha sulla mia pelle è bello liscio con accoppiato il primer quindi mi piace devo dire che è azzeccato poi per quanto riguarda la cipria io ne uso due quella che mi vedete spesso che sto per finire è quella della Elf che è in polvere libera che ho metto su tutto il viso ma se voglio una copertura e un effetto molto molto particolare io sto iniziando ad utilizzare questa che è la close up di Nabla io ho nella colorazione light che è questa qui l'effetto è bellissimo ha un effetto veramente setoso voi non lo sentite sulla pelle però col fatto che avete la pelle liscia con il primer fondotinta e tutto questa scivola che è una bellezza ed è una sensazione pazzesca sul viso che mi strapiace quindi io consiglio sinceramente questa di Nabla però la close up questa è in cialda diciamo non in polvere libera mi piace tantissimo mi levica la pelle non mi fa le rughette qua sotto e sinceramente mi piace tanto poi parliamo di due correttori perché ovviamente sull'occhiaio ho messo due correttori allora il primo che vi faccio vedere che è nella colorazione 03 se non mi sbaglio sì nella colorazione 03 è questo qui di Astra questa è una colorazione un po' più aranciata ve la faccio vedere perché vi voglio far capire come faccio io allora questa è la colorazione aranciata non so se si vede più pesca diciamo diciamo più pesca e questa io la utilizzo proprio nell'occhiaio quindi la parte interna fino a metà occhio io tocco diciamo leggermente con la punta del pennello l'occhiaia e poi lo sistemo o con la spugnetta oppure con le dita e così diciamo tolgo quel piccolo alone di di ombreggiatura che io ho che veramente io sinceramente ho la pelle me lo dico infatti tutti ho la pelle pulita non ho imperfezione non ho niente però quelle quella io ho una specie di solco che mi dà quel fastidio atroce tramite questo io non lo vedo non lo vedo perché mi sto guardando tramite la televisione e io sinceramente non lo vedo va bene che sono senza occhiaio però non si vede e quindi cosa faccio utilizzo questo lo tampono quindi con la spugnetta o con il dito e poi ci passo al di sopra questo che è un illuminante è un correttore illuminante di di essence ve lo metto qui è molto molto chiaro si vede benissimo la differenza e quello lo utilizzo proprio per schiarire questa parte e evidenziarla ma in nell'effetto giusto perché io ho corretto l'occhiaia ma ho evidenziato evidenziato la parte che mi serve di più e quindi utilizzo quello dell'astra per correggere e quello di essence per illuminare e mi piace tantissimo questa combo utilizzo lo 03 di essence e il 10 di cioè lo 03 di astra e il 10 di essence poi andiamo avanti e parliamo di blush in questo periodo sto utilizzando un blush che sinceramente all'inizio si l'ho comprato perché mi piaceva e tutto però poi ho detto mamma mia è un colore che forse non utilizzo tanto invece sbagliato lo sto utilizzando più di tutti i blush che io ho qui e sto parlando del blush questo qui di Inglot in collaborazione con J.Law e vi dico anche come si chiama questo è il 127 rosi vi metto qui vediamo se riesco a farvelo vedere ecco è quello di Jennifer Lopez della Inglot e devo dire che mi sta piacendo tantissimo non credevo e invece mi sta piacendo è un colore che io abbino certe volte lo abbino con quello di sotto più più aranciato ma questo mi dà un effetto di guance naturale non rosa perché all'inizio mi sembrava tipo rosa invece vedete è una tonalità semplice che ti dà quell'effetto di guance sane che non ti fa capire che avete messo tipo del blush e quindi mi stra piace perché è un effetto bello leggero non troppo definito ovviamente dipende anche dal pennello che voi utilizzate e automaticamente vi dà un effetto o patoccone oppure bello sfumato io utilizzo uno abbastanza sfumato quindi mi piace tantissimo l'effetto e devo dire che ci sto trovando bene quindi certe volte li utilizzo accoppiati se utilizzo il pennello grande oppure lo utilizzo soltanto ma questo questo è quello che sto utilizzando di più in assoluto poi invece per quanto riguarda la terra ebbene sì ho fatto un po' di contouring ma lo vedete leggerissimo perché vi ripeto sto ancora imparando quindi non vedrete quelle scene apocalittiche che vedo in alcuni video vedete delle cose sfumate leggere perché se è una cosa io non la so fare o la faccio gradualmente quindi imparo gradualmente o non la faccio proprio vi faccio vedere il contouring che utilizzo ho messo qui i due diciamo colori questo è questo è Harmony di MAC e questo me l'ha consigliato Betty quindi Betty questo è colpa tua e poi c'è quello che ho utilizzato in questo periodo che è quello di J.Law sempre Jennifer Lopez nella colorazione aspettate che leggo 139 Cocoa 5 e ve lo faccio vedere così si vede alla perfezione scusate ecco qui quello di Jennifer Lopez forse era un po' sporco vediamo se si vede bene ok no è così ed è il 125 di Jennifer Lopez mi piace mi piace l'effetto che mi fa non è un colore forte quindi dovete stare attenti bello io l'ho fatto bello pulito pulito sinceramente mi piace non vedete che non non ho dei segni tipo dei pataccone bello leggero leggero l'ho fatto sul mento l'ho fatto qui nella nello zigomo l'ho fatto un po' sulla fronte veramente mi è piaciuto tantissimo quindi direi che è un ottimo un ottimo contouring cioè io ho fatto soltanto il contouring non ho messo né bronzer né niente quindi per me questo è ottimo l'illuminante che vi faccio vedere è l'illuminante che avevo acquistato non perché diciamo mi aveva colpito così tanto ma perché avevo preso il numero 2 quindi ho pensato prendo anche il numero 1 così da accoppiarlo e sinceramente è quello che sto utilizzando in questo periodo ovviamente abbinato a dei make up più particolari perché sto cercando di non fare sempre make up per quanto riguarda il malva e il rosa e quindi automaticamente devo anche diciamo abbinare il blush con l'illuminante quindi sto cambiando sto parlando di questa tipologia di Kiko quelle in edizione limitata mi piacciono tantissimo questo è lo 01 golden webes ed è nella colorazione tipo champagne in poche parole mi piace tantissimo mi piace l'ho appena sbocciato qui sulla mano è un effetto che mi piace accoppiato al al make up ad esempio questo è un rose gold sugli occhi quindi mi piaceva tantissimo questo abbinamento e si vede io lo vedo tramite la televisione quindi si vede qui sul naso e mi è piaciuto tantissimo sinceramente io ho bagnato ho messo il fix sul viso e poi l'ho applicato devo dire che mi piace mi piace mi piace quindi in base anche a quello che io faccio però siccome sto facendo dei trucchi abbastanza veloci se devo fare un video non è che mi sto lì a truccare se devo fare un video di make up allora passo il tempo a fare tutti i minimi dettagli però se devo fare una base abbastanza particolare gli occhi li lascio così e gli occhi li lascio così sinceramente questo mi è piaciuto tanto e quindi ve lo consiglio tantissimo vi consiglio proprio questo colore poi l'ultima cosa che vi faccio vedere perché mi stavo dimenticando di nominarla è il fix di I Love Revolution io per mettere l'illuminante cosa faccio spruzzo questo aspetto due secondi e poi passo l'illuminante diciamo lo spruzzo come si dice l'erogatore è abbastanza che ti ti toglie diciamo il fiato però mi piace tantissimo perché ha l'odore del cocco e poi si asciuga io di norma lo faccio con il ventaglio e lo asciugo più velocemente ma posso dire che si asciuga anche bene mi sta piacendo l'odore è ottimo ed è un fissante che devo dire mi sta dando dei buoni risultati quindi ve lo consiglio anche questo è quello che sto utilizzando di più perché ne ho altri qui nella postazione e qui anche ne ho alcuni però sinceramente preferisco utilizzarne uno provare questo e poi se mi piace lo continuo a utilizzare se non mi piace lo accontano oppure lo regalo questo devo dire che mi è piaciuto tanto e quindi ve lo consiglio bene ragazzi allora questi sono tutti i prodotti che sto utilizzando in questo momento quindi in questo periodo di quarantena ovviamente è una base che io prediligo di più perché mi piace l'effetto che dà sulla mia pelle ovviamente è un pensiero personale lo dovete tutto quello che io vi dico lo dovete prendere come pensiero personale non sono io che devo dettare legge assolutamente quindi sulla mia pelle sulla mia tipologia di pelle che è mista al secco che è di un'età di 40 quindi che ho 40 anni quindi automaticamente vi dovete basare anche su queste tipologie di pelle io non ho di scromie come vi ho detto soltanto un po' di occhiaie ma dei solchi proprio e devo dire che la combo è perfetta non so ditemi cosa ne pensate giù nei commenti scrivetemi se avete utilizzato mai questo primer per quanto riguarda il viso per quanto riguarda i correttori blush illuminanti o per quanto riguarda la terra di gelo non so se l'avete acquistata se vi è piaciuta non vi è piaciuta scrivetemi qualsiasi commentino io ovviamente risponderò sempre lo sapete che io rispondo sempre ovviamente io vi chiedo soltanto di essere sempre educati per quanto riguarda questo video finito io ringrazio le mie angels quindi Fabiana e Elisabetta le mando un grossissimo bacio ovviamente appena chiudete il video andate subito e dico subito a vedere cosa vi possono proporre le altre due perché ovviamente questa è la mia base preferita io non so assolutamente cosa vi hanno fatto vi faranno vedere le altre due quindi sono molto molto curiosa perché loro sono molto più esperte di me quindi vi daranno molti più consigli di quelli che vi posso dare io quindi io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao a martedì ciao 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 ciao